Per Belen Rodriguez non è la prima volta che vede il suo tampone mostrare la tanto temuta linetta rossa. Per la seconda volta l'Argentina è risultata positiva al coronavirus costringendola a dover prendersi una pausa forzata dal lavoro. Giunta in Mediaset per partecipare alla puntata delle Iene al momento del consueto controllo dei tamponi per ben due volte il risultato è stato sempre lo stesso. Ad annunciarlo al pubblico un video mandato in onda l'altra sera durante la trasmissione di inchiesta di Italia 1. Una desolata Belen senza trucco e con la tuta si è mostrata seduta a terra e triste per aver appreso la notizia di dover tornare a casa. Grazie 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 Grazie